Se non avete mai sentito parlare di Henry Lee Lucas, probabilmente avete vissuto finora una vita molto tranquilla e felice. Ma le cose stanno per cambiare perché la sua storia è una delle più crude e strane che io abbia mai sentito, specialmente a partire dall'infanzia. C'è un episodio in particolare che ha coinvolto Henry, dove questa donna l'ha picchiato talmente forte che è rimasto praticamente in coma per tre giorni. Benvenuti nel sesto episodio di Red Room. Io sono Andrew di Andrew Fais. Io sono Ellie di Linkrimeland. E nella prima stagione del podcast vi raccontiamo tutte le storie più inquietanti che riusciamo a trovare e che hanno ispirato film horror molto spesso. Per l'episodio di oggi abbiamo scelto di raccontarvi il caso di Henry Lee Lucas, che ha ispirato in realtà molti film, i più famosi dell'85 e dell'86, ovvero Confessions of a Serial Killer e Henry Pioggia di Sangue. E vedrete molto presto perché si chiama Confessions of a Serial Killer. È una storia veramente particolare, mi ha lasciato un po' turbato, devo dire. Sì, 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 sì. Decisamente, beh, oddio, l'abbiamo appena trattato, se non l'avete ancora visto, tornate all'episodio precedente. Un caso che forse è tra i più disturbanti di cui abbiamo mai parlato, anche sui rispettivi canali. Però è sicuramente un caso decisamente sconvolgente. Quindi oggi, mi raccomando, state molto attenti perché se non avete mai sentito parlare di Henry Lee Lucas, probabilmente avete vissuto finora una vita molto tranquilla e felice. Decisamente. Ma le cose stanno per cambiare perché la sua storia è una delle più crude e strane che io abbia mai sentito, specialmente a partire dall'infanzia. L'infanzia è stata probabilmente una delle infanzi peggiori che sentirete in tutta la vostra vita, veramente. Sì, è difficile che qualcuno raggiunga un livello peggiore di questo. Sì, infatti. Tra l'altro, piccolo disclaimer, prima di iniziare a raccontarvi questo caso, come capirete poi dalla storia, alcune delle cose che verranno fuori da Henry, il protagonista, diciamo, di questo caso, potrebbero essere frutto della sua o fantasia o invenzione in qualche modo. Quindi, ovviamente, noi vi raccontiamo tutto quello che abbiamo trovato con varie fonti su internet. Potrebbe, come in realtà alcune cose si dimostreranno poi nel corso della storia, trattare di cose un po' inventate. Henry Lee Lucas, infatti, nasce il 23 agosto 1936 a Blacksburg. Si tratta di una cittadina di 40.000 abitanti circa, ma in realtà Henry con la sua famiglia non viveva proprio in questo paese, in questa cittadina. Viveva abbastanza, si può dire, isolato. Infatti, nel raggio di chilometri non c'era nessuno da dove abitavano loro. Abitavano in una sorta di catapecchia, perché è nato fondamentalmente in una famiglia molto povera, molto disfunzionale. Adesso vedrete, succedono veramente cose bruttissime. Comunque, nasce in questo contesto di estrema povertà, di estrema carenza di qualsiasi servizio. Effettivamente nella loro casa non avevano elettricità, non avevano l'acqua. Non c'era neanche il pavimento, ad esempio. Sì, era veramente una situazione molto... ai limiti della realtà, per come la vedo io. Henry aveva in totale otto fratelli e sorelle, fratellastri e sorellastre, sette dei quali però sono stati mandati in orfanotrofio e veramente è stata la loro salvezza. L'unico fratello che rimane in casa con Henry è suo fratello Andrew, che non sono io, giuro. È un altro Andrew, per fortuna, che comunque vive insieme a Henry questa situazione di disagio pesantissimo. Infatti, la madre, una donna di nome Viola, era una donna veramente molto, molto violenta. Era una persona veramente schifosa, non ho molti aggettivi per descriverla. Questa donna è sposata in quel momento della vita, quindi nel 1936, con un uomo di nome Anderson, che è poi il padre di Henry e Andrew. Questa famigliola non è per niente felice. Anderson, infatti, all'età di soli 21 anni, ha perso le gambe in un incidente ferroviario, perché lavorava come operaio in una ferrovia. In realtà, a quanto pare, abbiamo trovato più fonti, perché io ho letto che questo Anderson in realtà era un ubriacone, esattamente come Viola, la mamma di Henry. E a quanto pare, a quanto trovato, una volta si era ubriacato talmente tanto che era svenuto, va, perso i sensi, proprio su delle rotaie di un treno, che era passato e gli aveva tranciato le gambe. Tra l'altro è comprensibile perché l'alcol, diciamo, che era l'unica valvola di sfogo in quella situazione lì, in quella famiglia. Quindi in questa situazione, già molto precaria di per sé, la madre, Viola, diciamo che ci aggiunge del suo, perché fa la prostituta, non per questo è una cattiva persona, anzi. Il motivo per cui è una cattiva persona è che si tratta di una donna molto rozza, molto sporca, infatti proprio tutti la conoscevano per queste sue caratteristiche, era molto una scaricatrice di porto, praticamente. Ma ancora peggio perché i suoi clienti, che erano come lei, quindi persone molto poco raccomandabili, venivano a casa, a casa sua, dove c'erano anche Andrew e Henry, e lei costringeva i bambini a guardare mentre aveva questi rapporti con queste persone. E oltre a questo picchiava i figli per qualsiasi ragione, se non c'era una ragione per picchiarli, la trovava facilmente e via. E li picchiava in maniera proprio selvaggia, c'è un episodio in particolare che ha coinvolto Henry, dove questa donna l'ha picchiato talmente forte che è rimasto praticamente in coma per tre giorni. Cioè, questo bambino è rimasto svenuto per tre giorni a causa di queste percosse terribili che aveva subito. Oltre a questo, come se non bastasse, Viola porta a casa un amante, nonostante Anderson fosse ancora lì tranquillamente. Questo amante ovviamente non andava d'accordo con nessuno in quella casa, né con i figli, né tantomeno con Anderson. E che poverino, certo. Tanto che durante un episodio Anderson e questo amante di Viola si sono picchiati selvaggiamente, Anderson gli ha conficcato un coltello nel fianco, e di risposta l'amante di Viola l'ha tipo sfregiato col coltello. Comunque, insomma, situazioni del genere, ovviamente tutto davanti agli occhi dei figli, che non hanno neanche dieci anni a questo punto, sono proprio piccoli e hanno già visto il peggio del lato oscuro dell'essere umano. Quindi, come se tutto questo non fosse ancora abbastanza, chiaramente questi bambini che erano cresciuti in quelle condizioni non avevano dei comportamenti proprio, tra virgolette, normali. Erano entrambi decisamente violenti, in particolare il fratello di Henry, che aveva qualche anno in più, in un'occasione dove stavano litigando, come immagino normale tra tutti i fratelli, aveva deciso a un certo punto di prendere un coltello e piantarglielo nell'occhio sinistro. Da questo incidente, purtroppo, Henry perderà l'occhio sinistro e gli inseriranno poi una sorta di protesi, che chiaramente al tempo non era proprio una protesi realistica, probabilmente adesso c'è l'evoluzione e tutto, sono in grado di creare le protesi molto fedeli. Al tempo, chiaramente, non era il caso, quindi iniziò ad avere anche tutta una serie di prese in giro dagli altri bambini, perché quest'occhio era proprio evidentemente finto. E poi, tra l'altro, dopo un'operazione del genere, ovviamente c'è bisogno di una certa igiene, mentre in casa sua non era proprio il caso, per cui infezioni e cose del genere erano all'ordine del giorno. In più, come se ancora tutte queste cose che sono accadute non fossero abbastanza, dovete affrontare anche la morte del padre. Come vi dicevamo prima, vivevano in condizioni davvero terribili, non avevano elettricità, acqua corrente, un pavimento, e ovviamente neanche il riscaldamento, quindi nei mesi invernali, ovviamente, in quella baracca faceva molto freddo. Anderson si prese una polmonite, il che risultò, purtroppo, nella morte. E tra l'altro il padre era l'unica persona in quella famiglia, in generale nella sua vita, che quando era lucido e non era troppo ubriaco, gli dava quel briciolo di affetto di cui purtroppo aveva bisogno. Quindi Henry si ritrova totalmente da solo, non ha nessuno che lo supporta, che gli vuole bene. L'unica, diciamo, presenza che gli dà un conforto è una cavalla che avevano lì, e con cui lui, ovviamente, passava del tempo, si trovava bene, perché era ovviamente un animale che non può trattarlo, ma gli animali non trattano male, per cui lui si trovava davvero bene, era molto affezionato a questa cavalla. Solo che cosa succede un giorno? Per rimarcare il fatto che la madre era un mostro. Succede che la cavalla rimane incinta, e quando sta per partorire, inizia ovviamente a avere i dolori, avere le contrazioni, eccetera, quindi è un po' scatenata, un po' diciamo... Inervosita. Sì, inervosita. Per cui cosa decide di fare la madre? Uccide il cavallo, le spara un colpo. Gli spara questo colpo quando, ovviamente, il puledro era ancora nella pancia, quindi muore aggorsante anche lì, davanti agli occhi di Henry, quindi l'unica presenza che davvero gli dava un conforto, viene uccisa così, davanti ai suoi occhi, dalla sua stessa madre. Pensate l'impatto che deve avere una cosa del genere a livello psicologico. Ma infatti c'è anche tutta questa infanzia che stiamo raccontando in questo momento, va, secondo me, a spiegare molte delle devianze che poi questo Henry avrà nel corso della sua vita. Sì, per forza. Quindi, come potete immaginare, Henry non crebbe nel migliore dei modi, non solo dal punto di vista di supporto economico, emotivo, psicologico, ma anche a livello di devianza. Infatti non fu una sorpresa, penso, per nessuno, sapere il fatto che crescendo, e lo iniziò da quasi subitissimo a avere un po' di problemi con la legge e la polizia. La prima volta che viene beccato con le mani nel sacco fu nel 52, quando tentò di rapinare un negozio. Al tempo era ancora minorenne, quindi ovviamente non potevano metterlo in prigione, però lo condannarono a due anni di riformatorio. Questa esperienza non fu molto positiva, poi possiamo solo immaginare al tempo come erano i riformatori, cioè non c'era l'attenzione che c'è adesso e anche adesso sicuramente ci sono delle situazioni poco chiare anche in riformatorio. Fatto sta che dopo essere uscito, dopo questi due anni di riformatorio, in realtà finì col commettere un altro crimine lo stesso anno in cui uscita questo riformatorio. A questo punto però, a differenza della prima volta, era maggiorenne, quindi quando viene arrestato viene anche condannato a ben sei anni di carcere. Sei anni di carcere che si svolgeranno in maniera non proprio lineare perché solo dopo un anno di questa condanna in prigione, evase, riuscì a raggiungere casa della sorella che in quel periodo abitava a Tecumse e si rifugiò lì per un po' di giorni fino a quando in realtà non lo scoprirono e quindi lo riportarono in prigione. Ci fu un'altra evasione parziale, diciamo così, solo un mese dopo, dove però poi viene catturato lo stesso giorno dell'evasione, quindi non passo molto tempo. Tra l'altro cosa che mi ha fatto stranissimo è che nonostante i sei anni di condanna durante i quali questa persona era evasa, quindi di certo non era stato proprio il detenuto ideale, viene rilasciato con un anno di anticipo rispetto ai sei anni che gli avevano dato. Quindi nonostante tutto, hanno deciso anche di scontargli un anno di prigione. Una volta uscito, dopo questa condanna in realtà di soli cinque anni, si trasferisce in pianta stabile dalla sorella appunto a Tecumse e, diciamo, passò un po' di anni lì fino all'11 gennaio del 1960 quando sua madre, Viola, andò tipo a trovarlo, a trovare i suoi figli, chiaramente. Che carina. Che carina, esatto. Viola e Harry finirono con l'ubriacarsi insieme in un locale e, probabilmente anche, ovviamente alterati dall'alcol, iniziano a litigare. Il motivo di questo litigio, anche qua abbiamo trovato, cioè io ho trovato, magari tu hai trovato ancora una versione ulteriore, già due versioni. In una fonte ho trovato che litigano perché Harry voleva sposare una ragazza che la madre non approvava, quindi che il litigio fosse stato quello. Lui in realtà dice, però di nuovo, sempre le sue parole, non si sa cosa è vero e cosa no, che il litigio era nato perché Viola voleva che tornasse a casa da lei e lui ovviamente no, anche perché sappiamo che gli anni in cui vivevano insieme non erano stati decisamente dei migliori per lui. Fatto sta che inizia questo litigio che pare all'inizio interrompersi lì. Harry torna a casa dalla sorella, si mette nella stanza dove solitamente stava per dormire e di punto in bianco nel mezzo della notte la madre torna a casa ancora più ubriaca di prima e inizia ad aggredirlo, a colpirlo con un bastone. Harry reagisce, inizia a picchiarla, tira fuori un coltello e le taglia la gola. La madre finirà con ovviamente morire a quel punto. Lui prima ancora in realtà che la donna morisse a quanto pare secondo delle evidenze che sono state accertate ha avuto un rapporto con il corpo della madre. Dopo questa cosa scappa ovviamente. Quindi questo gesto brutale ovvero quello di uccidere la madre e poi abusare del suo corpo probabilmente l'ha fatto per un motivo ben specifico che lui stesso poi ha confessato durante tutti gli esami psicologici e psichiatrici che le sono stati fatti nei vari riformatori e carceri in cui è stato ovvero di un episodio in particolare di quando aveva dieci anni solo dieci anni tenetelo a mente in cui sempre questo amante della madre di cui abbiamo parlato in precedenza porta su un monte Henry insieme ad un vitello. Decide quindi di uccidere il vitello e di abusare del cadavere della carcassa e poi ha costretto Henry a fare lo stesso quindi lui già a quell'età diciamo si rende conto che quell'atto gli ha provato gli ha fatto provare un certo piacere a livello prettamente fisico perché ok però ha collegato questa sensazione con il fatto di uccidere con il fatto di anche violentare in modo violento comunque per cui in effetti ricercherà anche in futuro queste modalità nei suoi rapporti dopo questa cosa terribile che fece alla madre Henry scappa e riuscirà ad evitare diciamo la polizia e l'autorità per cinque giorni quando invece poi lo resteranno ad Oledo in Ohio ovviamente ci sarà un processo per questa cosa si dichiarerà lui stesso colpevole e verrà condannato a dieci anni di prigione che comunque mi sembrano molto pochi molto pochi diciamo che c'è stata l'attenuante per via delle sue confessioni del fatto di come sua madre l'avesse trattato e quindi anche il giudice ha preso in considerazione questi trattamenti magari anche l'aggressione col bastone in quel momento esatto esatto tutto quanto però comunque dieci anni sono un po' pochini anche se in più se consideriamo che è già stato in prigione cioè voglio dire è un pregiudicato quindi non so a logica solitamente tendono a dare di più se sei già stato in prigione non so come funzionasse in quegli anni sì probabilmente però non penso avessero chissà che archivi al tempo no esatto anche quello c'è da considerare poi tra i vari stati magari non comunicano anche tutte queste cose è un po' un casino negli Stati Uniti quindi dopo essere scarcerato Henry Lee Lucas si trasferisce in Pennsylvania dove si sposa con una donna di nome Betty Crawford la quale aveva già due figlie questo matrimonio non dura per niente tanto anzi perché la moglie scopre che Henry abusava assolutamente di tutte e due le sue figlie che avevano 8-9 anni la più piccola 7 7 e la più grande 9 quindi era molto piccolo e lui abusava di loro e quando ha scoperto questa cosa la moglie ovviamente l'ha allontanato ha chiesto il divorzio giustamente 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 sì e per cui da questo momento qui Henry comincia a vivere come un vagabondo in giro per gli Stati Uniti non ha effettivamente un posto fisso in cui stare non riesce neanche a trovare comunque dei lavori stabili specialmente con la storia che ha con il suo trascorso è ovviamente difficile durante questi anni Henry fa la conoscenza di una ragazza madre una ragazza chiamata Rhonda Knuckles che al tempo aveva 19 anni e aveva avuto da poco una bambina una bambina che aveva meno di un anno quindi proprio una neonata questa ragazza comunque al tempo era una ragazza madre c'era immaginate il pregiudizio all'epoca ovviamente per una ragazza così giovane con una bambina fuori da un matrimonio quindi diciamo che viene un po' come posso dire ingannata da Henry iniziano una relazione di fatto e permetterà che quest'uomo viva con lei la sua figlia all'interno di una sorta di casa mobile era poco più che una roulotte praticamente questa ragazza si rende subito conto che c'è qualcosa che non va in Henry innanzitutto quest'uomo sembra rifuggire qualsiasi tipo di contatto fisico inteso ovviamente sessuale con lei in più nota questo comportamento decisamente violento che tira fuori un po' così dal nulla cioè senza un evidente motivo per cui una persona si deve arrabbiare quindi diciamo che in realtà dopo solo settimane di questa convivenza Rhonda decide di lasciarlo e fa per andarsene fuori da questa casa e Henry la minaccia con un coltello e la terrà ostaggio in quella casa per i tre giorni successivi in quella casa in quel momento c'era anche la bambina la neonata e in questi tre giorni severa Rhonda in maniere terribili ma che non hanno mai coinvolto violenze sessuali al termine di questi tre giorni Rhonda sfruttando un momento di distrazione di Henry riesce ad uscire da questa casa chiede aiuto raggiunge la sua famiglia racconta tutto quello che è accaduto i familiari di questa Rhonda chiaramente vanno subito a casa alcuni di loro si portano dietro anche un fucile penso non avessero ovviamente belle intenzioni cosa assurda quando arrivano da Henry Henry tira fuori una bugia cioè dice ma guardate che io Rhonda non la vedevo da tre giorni ha tentato di uccidermi tre giorni fa e poi è scappata lasciandomi qui con la bambina neonata ad occuparmi di lei per quanto sia una cosa cioè era palesemente una bugia in qualche modo questi parenti credono ad Henry quindi non solo lo lasciano andare ma questa cosa non verrà segnalata alla polizia forse perché vedendolo comunque sembrava un po' un uomo indifeso non lo so che fa in fatica a pensare che abbia fatto queste cose terribili poi sicuramente lo vedremo anche nel corso della storia era palesemente un manipolatore perché racconterà tante di quelle cose a tantissime persone nonostante il quoziente intellettivo bassissimo che aveva perché aveva un quoziente intellettivo di 76 negli anni successivi vivrà un po' come vagabondo in giro per gli Stati Uniti fino al 1975 quando approda a Jacksonville in cui conosce un uomo molto poco raccomandabile di nome Otis Tull Otis al momento in cui incontra Henry si pensa che abbia già commesso quattro omicidi quindi potete immaginare la persona ma questa persona ha come Henry un passato piuttosto problematico anzi decisamente problematico infatti quando era piccolo sua madre che era una una sorta di fanatica religiosa non lo trattava esattamente bene anzi lo mandava a scuola vestito da donna e lo maltrattava anche fisicamente quindi aveva degli evidenti segni dei lividi nel corpo che non gli faceva nascondere affatto quando lo mandava a scuola e nonostante questo le maestre non vabbè che erano altri tempi ok non segnalarono niente non segnalano assolutamente niente un'altra cosa che però devo specificare dell'infanzia di questo Otis è che sua nonna invece nonostante la madre fosse una fanatica religiosa per la religione cristiana sua nonna faceva parte invece di una setta satanica era satanista non so se faceva parte di una setta satanica era satanista allora diceva di far parte di una setta poi come al solito c'è satanica come al solito quando si parla di queste cose c'è gente che si autodefinisce satanista e che poi non c'entra niente di fatto con quello che effettivamente è il satanismo si autodefiniva satanista e diceva di far parte di questa setta satanica poi di satanico secondo me c'era poco cioè c'era più magari cose che al tempo sì c'erano più cose magari più disturbate che magari cioè se leggi la definizione di satanismo capito sì 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 ma infatti sua nonna diciamo che l'ho anche introdotto a delle sorte di riti già quando era molto piccolo e lo chiamava il figlio del diavolo sì e tra l'altro durante uno di questi riti tra virgolette che facevano cioè questa signora ha portato il nipote a disotterrare cadaveri in un cimitero cioè di nuovo immaginatemi quanto deve essere traumatico per un bambino fare un'esperienza del genere e vedendo quella cosa come giusta è tra l'altro suggerita da sua nonna cioè deve crearti uno squilibrio di valori e di concezioni etiche quando sei così piccolo che non posso neanche immaginare oltre la nonna come già vi ho detto pure la madre ci metteva del suo in tutto questo bel quadretto familiare e chiamava anche un po' per sfotterlo diciamo lo chiamava Becky questo Ottis perché è un nome femminile lo mandava a scuola di sito da femmina e lo chiamava pure Becky questo nome ha un significato particolare che adesso approfondiamo insieme a Eli sì allora non lo so a me fa molto strano che innanzitutto tirava fuori sto nome Becky come se volesse un po' appunto ridicolizzarlo mandandolo appunto vestito da donna non si sanno effettivamente i motivi le motivazioni per cui questa donna avesse tirato fuori questa cosa ma secondo me c'era dietro qualche tipo di fetish di qualche tipo da parte di questa signora perché negli anni a venire questa signora si occuperà dei suoi due nipoti che erano figli della sorella di Otis che aveva insomma abusava di droghe era una persona insomma con un po' di problematiche poi tra l'altro morirà di overdose quindi questa signora si occupò dei nipoti e questi due nipoti erano maschio e femmina la femmina si chiamava Frida ed era una ragazza tra l'altro con un ritardo mentale e la soprannominò proprio Becky e questa cioè secondo me non è una coincidenza il fatto che si chiamava Frida e insomma le aveva dato questo soprannome Becky ormai tutti la chiamavano Becky quindi anche noi da qua in poi continueremo a chiamarla Becky quindi potete immaginare insomma come dovette crescere Otis e anche lui abbastanza in fretta iniziò a mostrare delle devianze perché da quando era proprio un ragazzino cioè quasi un bambino si rese conto di avere un interesse malato nel fuoco non parlo proprio solo di piromania insomma cioè sicuramente accendeva fuochi così ma provava proprio un piacere sensuale nel guardare il fuoco vedere le cose bruciare che poi è una cosa molto difficile da capire perché come può questa cosa provocarti un piacere sensuale cioè come è come vedere un tavolo che ne so che cade e ti provoca un piacere sensuale cioè qual è il collegamento secondo me nel mondo c'è nel senso ci sono talmente tanti che probabilmente però sì curare il fuoco ed è una cosa in realtà abbastanza comune dei piromani almeno ho letto così su internet che tendenzialmente provano il piacere questo questo interesse non so com'altro descriverlo no questa ossessione nel fuoco svia molto spesso nel sessuale cioè un piacere proprio cioè quando alcuni di questi piromani magari piccano un fuoco lo fanno proprio cioè che provano un piacere fisico proprio non solo dell'interesse magari del insomma di una cosa che brucia crescendo e neanche troppo perché intorno all'età di 14 anni Ottis inizia a prostituirsi ed è proprio durante una di di questi un di questi episodi con un cliente che presumibilmente sempre di secondo quanto poi racconteranno già racconterà Ottis uccise la prima persona infatti dopo cioè in un momento con un cliente a un certo punto Ottis sale sulla macchina dello stesso cliente e lo investe uccidendolo a 14 anni a 14 anni e questa cosa non verrà ce lo sapremo ovviamente poi dopo ma non verrà mai effettivamente processato per quel per quel caso lì sì anche perché di prove evidenti non ce n'erano e questa anche la difficoltà probabilmente in questo caso è che ci troviamo ovviamente in anni in cui non era magari proprio tutto pieno di evidenze scientifiche cose del genere quindi non c'era l'analisi del DNA non c'erano telecamere in ogni angolo come adesso non potevano guardare il tracciamento del cellulare per capire se si trovava effettivamente lì insomma erano situazioni un po' particolari anche per questo vedrete che ci sono molti punti interrogativi su questa vicenda in generale proprio tant'è che lui viene arrestato in realtà la prima volta a 17 anni per vaga bondaggio quindi cioè si sarà un crimine però sicuramente niente a che vedere con un omicidio negli anni successivi anche quest'ottis vagherà un po' per gli Stati Uniti finirà in Nebraska dove solo mesi dopo il suo arrivo in Nebraska diventerà il sospettato principale per l'omicidio di una 24 anni di nome Patricia Webb non appena inizierono queste indagini e lo fissarono come sospettato principale ottis prese e fece le valigie e scappa si trasferisce a Boulder in Colorado dove guarda caso solo un mese dopo il suo arrivo anche qui diventa il principale sospettato per un altro omicidio una ragazza di 31 anni di nome Ellen Holman e anche in questa situazione esattamente come in Nebraska non appena viene iscritto al registro degli indagati prende fa le valigie e scappa e torna a Jacksonville dove di fatto lui era cioè c'era anche sua madre ed è proprio qui che conobbe come abbiamo detto prima nel 75 il nostro Henry questi due uomini insieme si trovano veramente molto d'accordo diventano grandi amici anche perché sono accomunati dalle stesse passioni ovvero quella di uccidere entrambi come vi abbiamo detto prima hanno un cosiddetto intellettivo abbastanza basso rispetto alla media e si divertono in modi molto particolari insieme i loro divertimenti infatti consistono nel rapinare negozi rapire persone insomma non sono persone molto tranquille anzi tutt'altro ma comunque diventano veramente inseparabili per un periodo e tra l'altro qua ci sono due versioni che non combaciano tra Ottis e Henry perché Ottis sostiene di avere cioè che fossero anche amanti che avessero una relazione mentre Henry ha sempre negato ha sempre negato quindi ovviamente non possiamo sapere non possiamo sapere quindi diventano talmente tanto legate queste due persone che Ottis invita Henry a casa sua quindi li fa conoscere tutta la famiglia che non era affatto nuova a questi comportamenti di Ottis che portava continuamente a casa sconosciuti ma vabbè ormai lo potevate immaginare diciamo tra le tante cose forse era la cosa meno strana magari per loro esatto non gli ha fatto nessun effetto e in questa casa però come aveva detto prima Ellie si trovava anche questa Frida ovvero soprannominata Becky dalla madre di Ottis che a quell'epoca aveva 15 anni e diciamo che si innamora un po' non vorrei dire che si innamora però un'attrazione verso Henry da subito Henry a questo punto ha quasi 40 anni mentre Becky ha 15 anni e ha anche un ritardo mentale quindi nonostante Henry diciamo all'inizio un po' rifiutasse queste avance della 15enne dopo un po' si lascia andare e inizia ad avere propria relazione non molto possiamo chiamarla così sì una sorta di relazione quindi passano un anno in questa situazione in cui comunque continuano a fare le loro cose commettere piccoli crimini non si sa bene se commettono altri omicidi in questo lasso di tempo e lo vedremo infatti dopo sì è comunque probabile rispetto a quello che dicono insomma comunque passa appunto un anno in queste condizioni e intanto la madre di Ottis muore per cui decidono di partire loro tre insieme in giro per gli Stati Uniti sì che tra l'altro l'altro figlio c'è il fratello di Frida non si sa che fine abbia fatto sia rimasto lì totalmente disinteressato evidentemente dalla sorella cioè voglio dire neanche proteggerla in questo modo sì diciamo che la situazione familiare magari non permetteva neanche di fare questi ragionamenti questo è anche vero questo è anche vero quindi dopo circa un anno che hanno iniziato questo vagabondaggio per gli Stati Uniti nel maggio del 1982 Henry e Becky arrivano in un paese nel Texas che si chiama Ringgold in questo paese arrivano solo loro due perché Ottis intanto diciamo che va per la sua strada si abbandonano si perdono un po' di vista non sappiamo esattamente dove come perché si hanno litigato se è successo qualcosa di particolare esatto comunque dopo un anno che sono partiti appunto quindi nel 1982 arrivano in questo paesino Ringgold in questo paesino conoscono la famiglia Smart più in particolare Jack Smart che è un uomo che li vede vede appunto Henry e Becky e pensa poverini questi due voglio proprio dargli una mano gli sembravano delle brave persone per cui gli permette di andare a vivere a casa loro gli offre anche un lavoro nel suo negozio a Henry e anche vari lavoretti da fare nella sua casa nella sua proprietà per cui diciamo che si instaura questo rapporto con la famiglia Smart tanto che queste persone diciamo si fidano di loro al punto che la moglie di Jack che ha una madre piuttosto anziana di nome Kate Rich decide di mandare proprio Henry e Becky a casa di di sua madre Kate Rich per prendersene cura perché si fidava talmente tanto di loro due di dire ok c'è mia madre che sta male ha tot anni ha bisogno di cure andate voi cioè si fidava a quel punto e anche se all'inizio diciamo che i due provano a comportarsi bene col passare del tempo ovviamente iniziano a ad approfittarsene si tra l'altro cioè io ho letto sempre stato comunque Henry perché Becky comunque non era una persona cattiva anzi in realtà tra Becky e Kate Rich cioè io ho trovato che nasce un rapporto abbastanza bello nel senso che Kate si preoccupava proprio per questa per questa ragazzina che era una ragazzina a questo punto ovviamente 16 anni avrà avuto in quel momento esatto quindi mentre magari Becky si trovava meglio Henry inizia proprio a truffarla tranquillamente senza scrupolo proprio Henry inizia a prendere i suoi soldi tanto che le attività locali si rendono conto che c'è qualcosa che non va proprio perché conoscevano molto bene le abitudini anche economiche di Kate Rich per cui si insospettiscono proprio queste attività locali e informano la famiglia Smart dei sospetti che avevano proprio su Henry e anche su Becky di conseguenza che però era un po' trasportata diciamo dalla situazione quindi la famiglia Smart si reca a casa di Kate per controllare appunto le situazioni e notano la notano proprio in condizioni pietose la casa era veramente in un suo quadro sporca tutta in disordine e trovano Henry e Becky ubriachi sul divano per cui chiaramente di certo non la situazione ideale no e chiaramente si rendono conto che nonostante tutti i buoni propositi loro non si erano comportati come avrebbero dovuto e quindi sostanzialmente li cacciano li cacciano e giustamente direi perché è veramente un comportamento cioè io ti mando a occuparti di mia madre anziana e ti trovo per carità ma la sorte la fortuna gira ancora una volta a loro favore perché vengono cacciati appunto da casa di Kate ma incontrano un'altra persona un altro buon samaritano un signore di nome Ruben Moore che tra le tante occupazioni della sua vita era anche il leader di una comune pentecostale chiamata The House of Prayer io ci voglio andare a vivere però che bello io no non mi piacciono mi stanno un po' di sette nonostante questo assolutamente sembrava molto cioè in generale sembra molto una setta però non lo era non lo era assolutamente anzi fu una parentesi positiva per Henry cioè era questa comunità dove persone vivevano lavoravano insomma si occupavano ed era una comunità religiosa ovviamente e in questa comunità in realtà Henry si trova benissimo nonostante gli danno un posto in cui vivere che era tipo un pollaio cioè proprio una baracca non era una vera e propria casa lui inizia a lavorare inizia a mettersi da parte un po' di soldi acquista anche una macchina questa baracca inizia ad arredarsela a sistemarsene insomma fu secondo quanto ha raccontato insomma Henry anche negli anni a venire fu la parentesi più tranquilla e serena non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di amicizia e di comunità in generale proprio di tutta la sua vita esatto perché poi vabbè considerando la vita che ha avuto ci voleva poco però tutto bene per lui beh che in realtà non si trova bene inizia probabilmente ad avere un po' di nostalgia di casa non sappiamo ovviamente se magari avesse avuto qualche esperienza negativa all'interno di questa comunità fatto sta che inizia a chiedere più volte a Henry di tornare a Jacksonville anche perché diciamo che in questa comunità si rende conto di aver peccato molte volte insieme a Henry con tutti i furti per cui diciamo che ha il pensiero di confessare questi peccati e a Henry ovviamente questa cosa non va per niente bene per niente infatti in seguito a una sorta di discussione tra l'altro Becky chiamerà la signora l'anziana signora Kate per confidarle questa situazione un po' di disagio che lei provava in quella comunità e sarà Kate stessa suggerirle di affrontare la questione con Henry di metterlo davanti a un out out cioè o andiamo insieme o io me ne torno a Jacksonville avranno una sorta di discussione al termine di questa discussione Henry gli dice va bene torniamocene a Jacksonville fanno armi in bagagli partono tornerà un giorno dopo Henry da solo alla comune e la versione che racconterà alle persone che vivano lì era una versione un po' fittizia diciamo così ovvero racconta che Becky in realtà insomma aveva avuto un litigio e se n'era andata con un camionista aveva deciso di tornarsene da sola a Jacksonville e lasciare dietro lui quello che in realtà era successo è che si erano fermati in un campo per passare la notte avevano iniziato a litigare sempre stando a quanto raccontato da Henry perché ovviamente a questo punto l'unica versione che poteva essere raccontata è da quella di Henry Becky gli tira uno schiaffo e per reazione Henry prende un coltello e l'aggredisce ed è l'unico caso in cui Henry dice però di aver provato davvero rimorso perché non voleva farlo in realtà diciamo che non mi piacerebbe definirlo tipo innamorato di Becky no non lo era però forse tra le persone a cui si affezionò di più sì in modo sicuramente sbagliato malato certo però è tra le poche persone nella sua vita a cui si affezionò effettivamente sì tanto che dirà che la voce di Becky e la sua immagine lo perseguiteranno per tutta la vita quindi un senso di colpa comunque abbastanza grosso tornato alla comune rinizia apparentemente a fare la vita di prima senza Becky ovviamente perché da quel momento in poi chiaramente Becky non la vedrà più nessuno ma in qualche modo evidentemente Henry dava la colpa di quello che era successo quindi che il fatto che Becky voleva ritornare a Jacksonville e che si era arrivati tra virgolette poi lì in colpa il tutto a Kate cioè nei confronti di Kate che aveva appunto suggerito a Becky di parlargliene e di metterlo davanti a questo out out probabilmente anche per questo motivo un giorno Henry si presentò a casa della signora Kate gli propose un passaggio per andare alla chiesa e invece un passaggio alla chiesa non glielo darà la porterà in un campo la grelirà la ucciderà con un coltello e poi di nuovo ci saranno degli atti di necrofilia il corpo di questa signora lo nasconderà in realtà lì vicino per il giorno successivo poi tornerà a prendere i resti e li brucerà nella stufa della comune nel frattempo ovviamente questa signora Kate aveva una famiglia che le voleva bene chiaramente quindi si resero conto abbastanza immediatamente di quello che era accaduto e sapendo anche un po' quello che era accaduto insomma che era stata un po' truffata da questo Henry è il primo nome che fanno ovviamente alla polizia nel frattempo che stavano cercando questo Henry lui viene in realtà arrestato per una roba che non c'entrava niente ovvero per essere in possesso di un'arma da fuoco ce l'aveva non solo illegalmente ce l'aveva acquistata illegalmente ma in più essendo un ex detenuto non avrebbe potuto averla neanche legalmente una pistola quindi viene arrestato per quello e finalmente cinque giorni dopo questo arresto confessa non solo quello che ha fatto la signora Kate ma anche a Becky e darà le indicazioni alla polizia per entrambi i casi troveranno dei frammenti di ossa nella stufa della comune e anche sul luogo in cui aveva aggredito Kate trovarono i suoi occhiali e poco più lontano anche alcuni suoi vestiti e troveranno anche i resti di Becky dove nel punto insomma indicato da Henry si arriva quindi al processo per l'omicidio di Kate Rich che si svolge il 21 giugno del 1983 e questo processo si sarebbe dovuto concludere con una condanna a 75 anni di carcere ma proprio durante questo processo Henry inizia a confessare e confessa che oltre a lei e Becky aveva ucciso almeno altre 100 persone e questa sarà la prima cosa che dice per cui bisogna un po' fermare ripensare tutto e le forze dell'ordine diciamo che se lo tengono un attimo per sé iniziano a spremerlo a farsi raccontare tutto quanto da questo momento qui Henry inizierà a raccontare veramente ogni cosa si ogni cosa racconta diciamo che racconta parla tantissimo e parte proprio dalla sua infanzia in cui anche lì ci sono dei punti interrogativi perché l'unica prova di tutto quello che è successo è la sua parola si è la sua parola e racconta delle cose veramente particolari perché oltre vabbè all'infanzia racconta di aver ucciso tantissime persone durante i suoi periodi di vagabondaggio quando era libero insomma è talmente tante che si arriva ad un punto in cui la polizia magari rimette davanti una foto di una vittima a caso di un qualsiasi caso precedente di cui magari sapevano già le risposte sapevano già come era stata uccisa e lui si inventava totalmente dei dettagli proprio particolarissimi riguardo all'omicidio che non erano mai avvenuti perché se li erano inventati allora diciamo che perché accadero un po' tante cose chiaramente perché lui finì con il confessare più di mille omicidi di questi mille omicidi la polizia ne è presa seriamente in considerazione solo tra virgolette seicento che sono comunque un numero enorme tantissime veramente la cosa problematica è che ok magari in certi casi lui raccontava cose così di pura fantasia che non avevano nessun riscontro con quello che accadeva veramente in altri casi inizia a cadere una dinamica decisamente poco etica ovvero che gli investigatori guarda caso gli mettono davanti i fascicoli gli fanno leggere i fascicoli dei casi per cui poi lo avrebbero interrogato prima dell'interrogatorio su questi fascicoli chiaramente c'erano informazioni importantissimi tipo causa del decesso ritrovamenti sulla scena ipotesi e varie cose quando poi lo andavano a interrogare ovviamente lui che si era letto nel dettaglio tutti questi fascicoli confermava al 100% quello che era effettivamente accaduto e iniziò a crearsi questa dinamica bruttissima in cui questi investigatori andavano da lui semplicemente per poter mettere caso chiuso quando in realtà questi casi dovevano rimanere aperti e soprattutto non c'entravano assolutamente niente con lui c'è un caso in particolare che viene denominato la ragazza dei calzini arancioni che è un caso l'identità ovviamente di questa ragazza non si sa motivo per cui l'han chiamata così che come potete immaginare dal nome è una ragazza che è stata ritrovata totalmente nuda con addosso solo questi calzini arancioni è uno dei tanti casi che lui disse appunto di esserne responsabile lo porteranno anche sulla scena del crimine e lui dirà proprio con i dettagli sì qui ho fatto questo qua ho fatto quell'altro qui invece ho fatto questo l'ho presa così e sarà uno dei pochi processi di questi 600 casi che effettivamente indagheranno in seguito a queste sue confessioni che arriverà proprio a un processo contro di lui a questo processo però verranno fuori un po' di cose tipo che lui il giorno prima di questo omicidio si trovava dalla parte opposta degli Stati Uniti quindi molto probabilmente non c'entrava assolutamente niente perché in mezza giornata non poteva viaggiare così insomma e trovarsi in un'altra parte per uccidere una persona totalmente a caso con cui non aveva nessun tipo di legame certo e questo è solo uno dei casi in cui accadero queste cose qua cioè in particolare c'è stato un giornalista che si chiama Hugh Einensworth che era un giornalista investigativo che si occupa proprio di andare a ricostruire caso per caso dove si trovava lui o se c'erano delle prove che si trovasse da una parte opposta e da queste investigazioni che fece questo giornalista venne tra l'altro fuori che alcuni degli omicidi che lui si era attribuito in realtà erano già stati confessati da altre persone cioè in realtà erano praticamente casi chiusi e lui aveva detto sì no quella che avevo sentito quel giorno lì in realtà l'ho uccisa io sì diciamo che si crea questa situazione veramente assurda che non si era mai presentata prima lui si diverte proprio a confessare questi questi omicidi e diventa anche tipo amico delle forze dell'ordine lo trattano come uno di loro diciamo gli davano sempre sigarette cose da mangiare e lui in effetti stava bene perché aveva sempre vissuto in condizioni di povertà miseria assolute per cui una cosa del genere in realtà gli sta bene e quindi vuole preservarla e in più va finalmente attenzione totale da parte di chiunque sembrava quasi una star in quel momento perché lui usciva dalla centrale di polizia c'erano le telecamere c'era ho letto poi che tipo i poliziotti gli investigatori si facevano le foto con lui cioè proprio come fosse una star una vera fotografia davvero allucinante e c'erano questi investigatori che alcuni non tutti per carità che non vedevano davvero l'ora di poter chiudere questi casi magari aperti da un sacco di tempo portandogli il fascicolo e lui diceva sì sì sono stato proprio io anzi di questi 600 casi alcuni casi erano venuti tipo lo stesso giorno e non poteva ovviamente essere infatti avrebbe dovuto per tutte le cose che ha confessato avrebbe dovuto uccidere almeno tipo una persona al giorno per 40 anni altrimenti non era fattibile proprio anche a livelli di tempo comunque una delle cose che volevo un attimo approfondire riguardo alle sue confessioni e che mi ha particolarmente toccato è che ha raccontato che insieme a Ottis si erano diciamo arruolati in questa sorta di setta satanica che si chiamava le mani della morte e in questa setta satanica diciamo che sono stati arruolati per uccidere le persone o rapirle sempre secondo loro ovviamente sì sempre secondo le confessioni questa volta non solo di Harry ma anche di Ottis vabbè poi ne parliamo comunque vengono arruolati e pagati 10.000 dollari per iniziare a uccidere in giro per questa associazione così dicono posso fare una parentesi di questa cosa qua che ho letto che una delle ipotesi sai il famoso mostro di Firenze è proprio una cosa simile cioè che tipo i colpevoli i colpevoli siano stati pagati da altri per compiere quelle cose tra l'altro mi è venuto in mente per questo motivo qua effettivamente è un'ipotesi curioso cioè cose diverse ma con la stessa cosa venuta fuori diciamo così sì assurdo e racconta questa cosa mi ha abbastanza turbato racconta che sono stati appunto arruolati ma per questa setta per essere sicura che loro fossero veramente due persone che non avevano niente da perdere gli fanno fare questa sorta di allenamento per entrare nella setta cosa fanno? li portano in un'isoletta e gli fanno sgottare uno sconosciuto che poi più tardi quella sera avrebbero utilizzato il corpo di questo sconosciuto per i sacrifici e per nutrirsene tutti quanti tutti gli adepti di questa setta e questo era una sorta di rito di iniziazione e di addestramento per entrare a far parte ovviamente mi sembra tutto molto esagerato tutto molto anche perché fu proprio questa cosa qua delle mani della morte che iniziò a fare l'investigatore a dire ma non è che questo forse sta raccontando un po' cose campate in aria sebbene certe realtà possano esistere questa storia come la raccontava era veramente surreale e in più teoricamente aveva commesso talmente tanti omicidi in quell'epoca da quello che diceva che sembrava troppo improbabile troppo improbabile questi dettagli venivano un po' fuori anche a spezzettoni quasi come se dicesse a un certo punto ma sapete vediamo se credono anche a questo sapete che inizia a crearsi un po' di scetticismo anche proprio nel corpo nella task force degli investigatori che si occupavano di questo caso l'unico motivo per cui questa cosa ha un pochino di credibilità questa cosa della setta dico è perché sia Enrico e Ottis confermano hanno confermato questa cosa senza essersi visti senza essersi parlati per cui si e infatti c'è anche da dire che tipo man mano che Henry diceva ah si quel giorno insieme a Ottis siamo andati gli abbiamo fatto questo e quella l'abbiamo uccisa noi andavano poi a chiedere ad Ottis ma è vero che XYZ e Ottis sempre si 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 assolutamente tutto vero e tra l'altro Ottis in quel periodo si trovava già in prigione per un altro incendio doloso quindi voglio dire e tra l'altro era il vicino di cella di Ted Bundy Ottis non lo sapevo curiosità si cioè voglio dire che anche questo Ottis era pronto un po' a giurare per qualsiasi cosa che Henry tirava fuori chiaramente anzi Henry racconta che quando capitava che magari cioè si auto accusava di essere il colpevole di qualche caso che non corrispondeva per modus operandi agli altri di cui aveva parlato diceva no ma qua la cosa è diversa la vittima è un uomo magari perché è stato Ottis cioè giustificava queste cose che non tornavano tanto col suo modus operandi o quello che faceva solitamente lui con è stato Ottis di questi 600 insomma centinaia di omicidi che si era addossato e che i poliziotti erano stati pronti a dire si 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 firma qua così chiudiamo sto caso iniziano un po' tutti a sgretolarsi per molti motivi grazie anche a quel giornalista lì e grazie anche scusa alle famiglie delle vittime che dicono non è possibile molti dicono non è possibile che sia stato lui che anche giocare con queste povere famiglie che magari dopo anni non hanno una risposta vedere finalmente magari quello che è successo il colpevole in carcere e poi di nuovo trovarsi davanti deve essere stato terribile che di lui non mi meraviglio ma più che altro delle forze dell'ordine si no l'hanno sfruttato palesemente per avere la spilletta a caso chiuso terribile brutto brutto fatto sta che alla fine di concreto al 100% gli omicidi ufficiali che ha compiuto Henry sono stati quello della madre quello di Becky e quello della Kate l'anziana Ottis quelli di cui vi abbiamo parlato prima non sappiamo se dopo la separazione con Henry e Becky magari ha ucciso altre persone ha fatto altre cose il fatto sta che a entrambi sia Ottis che Henry in ogni caso gli danno un ergastolo in realtà prima li condannano a morte poi questa condanna a morte viene revocata quella di cambia la legge cambia la legge ma viene proprio revocata e commutata in pena di ergastolo proprio da Bush e dal presidente perché chiaramente a questo punto con tutte queste ritrattazioni non era più sicuro nessuno che quello che aveva detto fosse effettivamente vero fatto sta che nonostante tutto Henry morirà poi di cause naturali per arresto cardiaco il 12 marzo del 2001 e tra l'altro ho letto che il corpo è stato affidato ovviamente delle pompe funebri e non è mai stato reclamato da nessuno nessun parente nessun qualcuno anche perché i vari fratellastri che aveva sparsi per il paese avevano un brutto rapporto con lui perché ogni volta che andava a trovare uno dei fratellastri per qualche motivo si comportava male quindi corpo mai reclamato sarà stato sepolto in una cioè come sepolto i corpi quanto lui che magari è anche plausibile che lui credesse veramente di aver fatto tutte quelle cose perché magari si era creato una sorta di mondo alternativo nella sua testa in cui lui era questa grande persona che toglieva la vita a chiunque magari davvero lui pensava questo grande serial killer inarrestabile sì 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 e Ottis lo stesso anche perché due persone così a vicenda si influenzano particolarmente non lo so è veramente curioso quindi ovviamente voi fateci sapere che cosa pensate di questo caso pensate che davvero abbiano ucciso sia lui che Ottis così tante persone o comunque magari abbiano esagerato inventato molte cose fateci sapere le vostre opinioni ovviamente questo è tutto quello che abbiamo trovato sul caso di oggi speriamo come al solito di avervi fatto compagnia voi ce la fate sempre compagnia leggiamo tutti i vostri commenti anche se non rispondiamo tranquilli li leggiamo ci rivediamo con il prossimo podcast vi ricordiamo che ci trovate disponibili sia su youtube che sulle piattaforme di streaming dei podcast esattamente quindi grazie ancora una volta per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata di Red Room per essere stati con noi per essere stati con noi